Una pittura potente che parte dalla consapevolezza della sua natura di medium espressivo per arrivare a indagare la struttura mobile del tempo attraverso lo spazio. Incontrare il lavoro del pittore israeliano Oren Eliyav nella Galleria Building di Milano è un'esperienza forte, densa, calata nel senso di un presente che forse solo l'arte riesce a intercettare in modo profondo. Quando ci muoviamo nel tempo, ha spiegato Eliyav ad Ascanews, ci stiamo muovendo anche nello spazio. La Galleria Building è uno spazio e lo si attraversa piano dopo piano. Questo è il punto di partenza e visitandoli l'uno dopo l'altro si percepisce lo scorrere del tempo. I diversi livelli dell'esposizione scandiscono momenti, luoghi, percorsi che portano a comporre alla fine il senso di quel Mount Zero che dà il nome alla mostra come se si trattasse a tutti gli effetti di un'ascesa fisica come fisica reale alla pittura che incontriamo e che stimola anche un modo diverso di stare davanti all'opera. C'è il tempo della pittura e quello del guardare la pittura, ha aggiunto Eliyav. Ho cercato di metterli insieme per quanto possibile. Oggi, nella vita del 2020, siamo abituati a scorrere le immagini sullo schermo di un telefono. Non prestiamo attenzione, ci limitiamo ad estare un'informazione. È un paesaggio, è un amico. Quando lavori per molte ore un dipinto in studio, non fai altro che guardare. E quindi, non è solo un attimo, si tratta di qualcosa che prosegue nel tempo. Ovviamente, il senso del tempo, sul lungo periodo, non può che essere circolare. Inizio e fine si toccano, si rimettono in moto a vicenda, come una grande biologia morale della vita e della sua rappresentazione. Ma in questo monte, verrebbe da dire analogo a molti aspetti della nostra esistenza, si trovano anche dei semi di un modo di guardare più profondo e privato. Si presta attenzione a ciò che è reale, ha concluso l'artista, e l'unica cosa reale è quella che sta accadendo adesso. Parole che prendono ulteriormente senso se le caliamo nella realtà attuale, fatta di pandemie e zone rosse, situazioni che l'arte, talvolta, ci può forse aiutare a guardare con un briciolo di maggiore lucidità.